Un saluto grande, ben ritrovati, ben ritrovate a tutti quanti del canale, grazie per seguire e per seguirmi ovviamente i miei insegnamenti, i miei suggerimenti logicamente. Grazie a tutti perché vi state iscrivendo, perché commentate, grazie, grazie, grazie. Quindi bacio, bacio per salutarvi e per iniziare un'altra, un'altra cosina da apprendere che forse vi sarà molto utile. Parliamo, come avete visto dal titolo, di separare. Eh sì, ogni tanto ci vuole, ci vuole quando logicamente c'è una giusta causa. C'è una giusta causa per fare un'opera magica, che sia di separazione, che sia di attacco, di difesa verso un nemico o verso situazioni con persone negative. Allora ci deve essere sempre un'ottima e giusta causa. Se questa causa c'è, non avrete nessun problema. Mi raccomando, non fate separazioni specialmente sulla base di emozioni vostre, sulla base di dubbi vostri o sulla base della rabbia. Fatele se avete reali prove, se c'è veramente una cosa, una situazione tra due persone che possono essere. Logicamente il caso classico, l'amante A e l'amante B, oppure il vostro compagno o compagna e c'è un amante, qualcuno che insidia il rapporto. Va bene, questo può andar bene. Fatelo se c'è un parente, magari un figlio, per fare un esempio classico anche qui, che sta insieme a una persona molto negativa, che può essere un amico, un'amica o qualcuno che lo porta su una cattiva strada. Fatelo se ci sono due persone che sono negative, magari contro di voi, e magari tra di loro sono in amicizia, in pasta, ma contro di voi combuttano. Potete farlo, potete farlo al fine di distaccarle, di farle litigare, di rompere questa energia negativa che poi arriva anche a voi. Questi sono i casi dove è consigliato anche operare, perché alla fine ci stiamo difendendo. Carissimi e carissime, questo lavoro è un lavoro molto antico, intanto per ripeterci come sempre, è un lavoro di macumba. In questo caso non useremo candele perché non sono necessarie, ma useremo la forza di elementi estremamente attivi in una separazione e useremo la nostra energia, che è preziosissima, e l'energia cosmica o universale. Quindi tutta quell'energia che ci sta intorno, sotto, sopra, da ogni parte, quella elettricità che possiamo plasmare a nostro favore. Allora, come si fa? Come si opera? Intanto vedete che ho una pentolina, questa pentolina deve essere una pentolina tranquilla, non tanto grande perché non serve così grande, la prendete nella vostra cucina e vi munite anche di un cucchiaio perché vedrete che servirà. Poi, che cosa serve? Allora, sale, sale grosso, se no anche sale fino, abbondante sale. E mettiamo un attimo da parte. E poi, aceto, vinagre come si dice in portoghese, aceto. Bello forte, se è bianco, se è rosso, non ha importanza. L'importante è che non sia un aceto magari balsamico, dolcificato, questo no. Un aceto forte, anche economico, va benissimo. E poi andiamo sul reparto, diciamo così, dell'energia, dei testimoni, di ciò che determina le persone. Allora, opzione che vi do. Un fogliettino di carta, abbastanza contenuto, non importa un manifesto. Una penna nera o un pennarello nero, si usa il colore nero. Dove voi andate a scrivere su un lato il nome di una delle due persone, nome, cognome, data di nascita. E allo stesso modo, girando, perché ovviamente sulla parte opposta, il nome dell'altra persona. Nome, cognome, data di nascita, o perlomeno tutto ciò che è in vostro possesso. Quindi se non avete la data, potete farlo lo stesso. Però se avete la data, certamente ce la mettete. Oppure agiamo così. Questo è a discrezione vostra. Potete munirvi di due fotografie. Queste fotografie, chiaramente, stampate a casa vostra, con la vostra stampante. Io, chiaramente, prendo sempre delle foto dai giornali per fare degli esempi. E anche sulle foto, comunque, voi scrivete, magari sotto, oppure anche dietro, il nome, il cognome, la data di nascita della persona e anche dell'altra. Insomma, scrivete i dati che avete in aggiunta alle fotografie. Altrimenti, non c'è problema, questa macumba è ugualmente efficace con il foglio magico. Il foglio, il famosissimo foglietto magico che vediamo tante volte. Allora, come si procede? Questo lavoro si fa nella nostra cucina e si fa quando ci pare. Vale a dire, non ci sono lunazioni, non ci sono giorni, non ci sono orari. Ripeto, né lune, né giorni, né orari. Solo le persone che si sentono più allineate, per fare un esempio, con la luna calante, possono lavorare certamente in fase di luna calante. Altrimenti, quello che serve è la vostra determinazione, la vostra fede. E anche un pochino di sana rabbia, nel senso buono del termine, perché dovete essere determinati e mentalizzare le due persone che litigano, che si separano, che non si vedono più, che non si avvicinano più, che non si sopportano più. Benissimo. Allora, prendiamo l'aceto, lo mettiamo nella pentolina, in ragione, è abbastanza abbondante, del tipo due tazze, due tazze di aceto, o due bicchieri colmi di aceto, perché è la quantità minima che vi serve. Poi se volete metterne un pochino di più, ne mettete anche un pochino di più. Portate la pentolina sul fuoco, sul fuoco medio, direi, e attendete che questo aceto comincia a fremere, a sobollire. Quando l'aceto comincia a bollire leggermente, prendete il sale e ci mettete dentro sette cucchiai di sale, o grosso fine. Quindi sette cucchiai di sale. E mescolate, mentre sta sobollendo, o bollendo comunque sia, mescolate bene per fare sciogliere il sale. Così. Dovete sempre fare l'operazione mentalizzando le due persone. Quando il sale è sciolto, la pentola ovviamente è sul fuoco, voi mettete dentro il foglietto magico, con i nomi, eh? Oppure, se volete, mettete le due foto sempre nominate, eh? A vostra scelta. E, monendovi del cucchiaio, fate bollire, girate bene, fate bollire, mentalizzate la separazione, quello che accadrà tra queste persone, che smetteranno di vedersi, che litigheranno pesantemente, pesantemente, che non si sopporteranno, eh? Che non si vedranno più, eccetera, eccetera, eccetera. E lasciate bollire, magari mescolando ogni tanto, questa mistura almeno cinque minuti. Poi, se volete farla bollire di più, potete farla bollire anche di più. Cinque minuti, mentalizzando molto, molto bene. Spegnete il fuoco, passato il tempo previsto, e mettete la pentolina da parte, eh? La mettete da parte per farla raffreddare completamente. Infatti, questa mistura deve raffreddare, non essere tiepida. Attenzione, proprio raffreddare, diventare, non dico ghiacciata, ma molto fredda. Perciò voi, con calma, attendete che tutto il contenuto della pentola sia completamente freddo. Cioè, andate a fare le vostre cose. Una volta che sono passate, diciamo, le ore, magari sarà un'ora, due, tre, non lo so questo, che tutto è veramente freddo e non tiepido, voi prendete questa pentola, andate in bagno, presso, ovviamente, il water, e gettate tutto con rabbia dentro, eh? E tirate lo sciacquone, facendo scorrere tutto quanto è di queste persone, giù, giù negli scarichi, nel luogo dove tutto si disfa, si distrugge. E così il lavoro si conclude. Allora, piccoli tips, cioè piccoli consigli. Per esempio, domanda, Simonetta, quante volte posso fare questo lavoro? Basta una volta? Va fatto più volte? Allora, può bastare anche una volta. Però, siccome ognuno di noi è diverso, e ognuno di noi vive un karma diverso, potete anche decidere di ripetere il lavoro, per esempio, ogni tre giorni, ogni quattro giorni, o ogni settimana, eh? Questo, finché voi non capite, non avete segnali, i sentori, che c'è in atto la separazione, oppure che è già avvenuta. Poi, quando è avvenuta, ovviamente, il lavoro si conclude lì. Perciò, questi sono dei piccoli consigli. E mi raccomando, come sempre, non abbiate fretta. La magia non ammette la fretta. Non ammette il dubbio. Non ammette il tentennamento. Non ammette l'ansia. Quindi, guardatevi bene. Da fretta, dubbio, ansia, funziona, non funziona, sto facendo una cavolata, sto perdendo del tempo. Che sia vostra l'opera magica, che sia di un operatore, ma non lo dico per me, lo dico in generale. La magia non ammette queste emozioni, perché queste emozioni, qualunque tipo di magia, qualunque tipo di rituale, sono emozioni, mentalizzazioni, che diventano onde distruttrici dell'opera magica. Quindi la vanno ad allentare, a disfare, e dovete poi ricominciare da capo. Quindi governate i vostri pensieri, siate calmi, saldi, e non abbiate mai fretta. Benissimo, carissimi e carissime, con questo lavoro, che spero vi sia stato gradito, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, e vi dico bacione, e alla prossima!